Avete rinnovato anche voi, come sempre, con tutto il gruppo, questa bellissima tradizione della Pasquetta, poi ci saranno gli articanti, ma davvero questa cosa ormai ve la sentite quasi dentro, vero Carla Fiorelli? Certo, certo, ormai sono tanti anni e ogni anno lo riproponiamo perché qualsiasi manifestazione che noi portiamo avanti ce la sentiamo nel cuore. Anche il fatto di andare a provare la sera, di togliere tempo alle nostre famiglie, ma poi è una cosa bellissima perché le stanchezze e tutta la routine della giornata passa, stare insieme e provare, diciamo, le nostre origini ci dà una grande ricarica. Certo, perché appunto il fatto stesso di stare insieme allevia tutte le fatiche, perché poi alla fine vi divertite, la battutina, magari anche quando si sbaglia si ripete, si ride, si scherza e poi tutto quello viene fuori quando poi fate questa manifestazione con la soddisfazione di vedere tanta gente che vi applaude e quant'altro. Queste sono le soddisfazioni della vita, vero? Sì, tanta gente ci aspetta, comunque sanno che noi ci siamo, che siamo presenti e ci seguono, ci chiamano, dicono, ma quest'anno non vai cittadino? Solo io ho risposto almeno a una ventina di persone che chiedevano e io gli dicevo stanno arrivando, stanno arrivando. Grazie mille, grazie. Bene, allora grazie per questa ennesima dimostrazione di voler bene a Termoli, di voler bene alla cultura e alla tradizione termolese e soprattutto mi fa piacere vedere anche tantissimi giovani, ecco questa è una ragazzina che tra l'altro crescerà, sarà magari fra qualche intervista, magari non ci sarò più io perché purtroppo io ho qualche anno più di lei, Ci sarà lei, sicuramente gli passeremo il testimone, certo è giusto. Allora, buona Befana, senza voler... No, no, è una bella augurio, tranquillo. Senza allusioni, va, Befana perché è la festa. Allora diciamo buona Epifania che suona meglio e grazie di cuore per quello che avete fatto anche stasera. Grazie, grazie mille anche a voi e tanti auguri a tutti. Grazie.